In Gran Bretagna e Giappone di Rubens, da ripeto, ci saranno prove di partenza e pit stop con Rosa Padua spegnato su questo breve tracciato, circa 810 metri, prove di partenza, pit stop e qualche accelerazione, chiaramente con l'autore vento, un po' più. Questa è una semplice esibizione. Certo, perché riusciamo e dobbiamo trasmettere l'entusiasmo che i tifosi ci comunicano continuamente in ogni momento e questa è sicuramente una questione più importante. E quindi deve essere sempre una relazione professionale perfetta, perché questo è quello che noi vogliamo e quindi sicuramente il nuovo è sul suo di subito.